È molto difficile fare le conclusioni di un lavoro come quello che Nicola, Sandro e tutti gli amici hanno organizzato perché in realtà la vera conclusione è l'inizio dell'Europa di domani, dell'Europa che verrà. Noi abbiamo un'ambizione che è quella di non vivere nel tempo della istantocrazia. Siamo su Instagram come tutti, siamo sui social, ci piace ricevere i like, farsi fare i retweet, è un'attività assolutamente normale. Ma questo tipo di attività oggi non può sostituire la fatica della politica. La politica è fatica, è studio, è approfondimento, è conoscenza dei problemi. E in questo senso Italia Viva vuole essere la casa di quelli che amano la politica e non la dittatura dell'istante. La dittatura dell'istante che cos'è? Ricevo un'immagine, un audio, una notizia, un pensiero, reagisco perché siamo fortunatamente umani, donne e uomini del nostro tempo e questa reazione esaurisce la mia risposta. In altri termini, noi viviamo un tempo nel quale la politica è soltanto reazione. Tant'è che abbiamo, in Italia soprattutto, ma non solo in Italia, numerosissimi esempi di politici che stanno oggi facendo l'esatto opposto di quello che sostenevano alcuni anni fa. Io ho trovato davvero sublime l'idea che, non farò nomi, anzi li farò, il sottosegretario agli esteri del governo italiano, Di Stefano, che andava a Mosca a firmare gli accordi con il partito di Putin, che andava a definire l'Ucraina uno Stato fantoccio della Nato, che contestava il mio governo per le nostre prese di posizione di allora nei confronti degli alleati europei e della Russia, bene, quella stessa persona in questi giorni è il Pasdaran, che allora diceva no al TAP, giusto per dirne una, in questi stessi giorni è il Pasdaran della linea più dura e oltransista assieme al Ministro Di Maio. Cosa voglio dire? Voglio dire che è facile rimuovere tutto e vivere in un presente continuo, in un regno dell'istante in cui non c'è spazio per la politica. Se volete questa roba qua potete spengere la telecamera di Facebook, potete spengere l'audio di Radio Leopolda, prendetevi quei populisti che dicono oggi tutto e il contrario di tutto, ma lasciateci la politica. Noi siamo orgogliosamente un'altra cosa, noi siamo totalmente un'altra cosa, noi siamo quelli che cercano di riflettere e nel cercare di riflettere non è che siamo dei robot senza emozioni, è evidente che le immagini di Buccia ci lasciano senza parole. E anche su questo togliamo, sgombriamo subito il campo da ogni dubbio, da ogni tentativo giustificazionista che qualche assurdo profeta dei nostri tempi vorrebbe in qualche modo portare al tavolo della discussione. Ciò che accade ed è accaduto in Ucraina è evidentemente un crimine di guerra in molte circostanze. Sparare ai civili è crimine di guerra, stuprare le donne è crimine di guerra e oggi la tecnologia può permettere non solo di ricostruire ciò che è avvenuto, ma anche con molta chiarezza andare a beccare i responsabili. Io credo che su questo non ci sia spazio per nessuna propaganda. Chi ha compiuto quei reati deve risponderne nelle sedi istituzionali quando tutto sarà finito. Quindi noi non siamo persone che non vivono le emozioni. Io sono sconvolto quando vedo una mamma che scrive sulla schiena del proprio bambino il numero di telefono, il nome si prepara cioè alla cosa più innaturale di tutte, all'idea di perdere la vita e di lasciare il suo figlio in quelle condizioni o viceversa di perdere il bambino come è accaduto in alcune circostanze, alcune delle quali sono finite bene, altre purtroppo no. Insomma il ragionamento che io voglio fare è che le emozioni sono forti, sono tante, sono veramente importanti perché toccano il cuore. Ma chi fa politica ha un compito in più. Non si può affermare alle emozioni. Chi fa politica deve trovare le soluzioni. Chi fa politica deve non soltanto dire che dolore, che disastro, che tragedia, che atrocità la guerra. E noi lo diciamo, lo urliamo dicendo che c'è un responsabile che è la Russia di Putin e c'è un aggredito che è il popolo ucraino senza se e senza ma. Anzi stupisce vedere come una parte di quelli che negano tutto ciò, sono gli stessi che fino a due mesi fa avevano le stesse chat per dire che i vaccini facevano male. Ma questo è un argomento che prima o poi qualche esperto di sociologia politica ci spiegherà. Noi siamo chiari nell'attribuzione della responsabilità e allo stesso tempo però diciamo che la soluzione deve essere politica. Vedete, non è semplice, dopo tutto quello che abbiamo detto, dire eh ma bisogna fare l'accordo con chi rappresenta l'aggressore. Ma è l'unica soluzione per bloccare la guerra. Questo non impedisce di dire la realtà per com'è ma contemporaneamente ritaglia l'Europa, lo ricordava da ultimo anche Matteo Colaninno, quel ruolo politico e diplomatico dal quale l'Europa dal quale l'Europa non può abdicare. È assurdo che ci provi Erdogan o Bennett o il ministro degli esteri cinese e che non ci provi l'Europa nella sua totalità, con una sua personalità. Ah ma l'Europa è parte in causa, l'Europa dice che c'è un aggredito e c'è un aggressore. Certo, ma proprio per questo ha la statura morale di poter mettersi intorno a un tavolo. Gli accordi si fanno così. Chi dice che la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi non ha capito nulla. La guerra è l'opposto della politica e la politica è l'unico modo per fermare la guerra. Ecco perché io dico Angela Merkel, ecco perché io dico Romano Prodi, se volete vado avanti dico Tony Blair, certo non si potrà dire che Blair non abbia simpatie occidentali, quale che sia il nome che viene scelto occorre che la Nato e l'Europa abbiano l'intelligenza politica di offrire anche un tavolo diplomatico per arrivare alla soluzione del problema. Lo dico nell'affermare con chiarezza che Italia Viva non è un partito come altri che deve nascondere le magliette o le visite in Russia. Noi siamo stati colpiti dalla propaganda e dalla disinformazione russa. Io ricordo, l'ho fatto in un libro, ricordo la mia telefonata di fine ottobre inizio novembre a Vladimir Putin per chiedergli di smetterla con la campagna che veniva fatta contro la loro macchina organizzativa del SIA referendum. Vi ricordate? Era, mi pare, fine ottobre, un bellissimo giorno di sole in Piazza del Popolo e dopo mesi e mesi di propaganda rilanciata da alcune chat nostrane ma gestita da agenti esterni Russia Today mise le immagini di Piazza del Popolo dove noi facevamo le grandi iniziative per il SIA dicendo proteste contro il primo ministro Renzi. E io chiamai Putin e gli dissi ma fino a quando continueremo con questa propaganda, con questa disinformazione, con questa campagna di denigrazione in casa altrui. Argomento che poi era stato oggetto di discussione che poi fu ripreso in un vertice nel mese di novembre con i paesi europei partecipanti al G7. Dunque questo tema c'è. Noi abbiamo subito la propaganda eppure diciamo oggi dobbiamo tentare di trovare una soluzione. Ma il nostro convegno non è un convegno che si è occupato di parlare semplicemente di Ucraina eppure sappiamo quanto questo sia importante in attesa di questo fatidico 9 maggio sperando che le soluzioni possano trovarsi prima. Io credo che la vera questione sia che il mondo si divide, il mondo politico, tra chi pensa che l'Europa sia il problema e chi pensa che l'Europa sia la soluzione al problema. Noi siamo convinti di questa seconda ipotesi. Noi pensiamo che l'Europa sia la soluzione o una delle soluzioni ai nostri problemi. E mentre lo diciamo sappiamo che siamo stati e saremo tra coloro che tante volte hanno criticato l'Europa perché vogliamo di più, perché non ci basta una Unione Europea talvolta stretta nei suoi angusti confini burocratici. Noi siamo quelli di Ventotene, gli eredi di quelli di Ventotene e forse anche i fratelli maggiori dei nuovi di Ventotene. Se è vero, come è vero che all'inizio di settembre, grazie al lavoro della straordinaria famiglia di Renew Europe, organizzeremo per l'Enel, che saluto naturalmente e che ringrazio per il sostegno, la collaborazione, la condivisione, organizzeremo a Ventotene una grande scuola, la scuola di formazione politica a meritare l'Europa? Perché pensiamo che noi nella carta d'identità abbiamo quel concetto di patria europea a cui prima facevate riferimento. Dunque noi siamo quelli che vogliono davvero un'Europa più forte, ma per avere un'Europa più forte siamo consapevoli che sfuggire al potere della istantocrazia non è semplice. Guardate che anche in Europa non è mica facile, cioè parliamoci chiaro, oggi è il 5 di aprile, ci sono 20 giorni e ci giochiamo l'osso del collo in Europa, perché quello che accadrà domenica 10 aprile e domenica 24 aprile in Francia segna il futuro dell'Europa. Ci sono due possibilità, o vince Emmanuel Macron e noi siamo scatenati al fianco, a Vecvu, al fianco del presidente Macron per la sua capacità di governo ma anche per la sua idea d'Europa, o vinci Macron o perdiamo tutti, perché la vittoria della Le Pen sarebbe una disgrazia impressionante per l'Europa e se le cose andranno come i sondaggi paventano, al primo turno saremo avanti noi ma poi si parte da 0 a 0. Il ballottaggio è una gara, chi l'ha fatta lo sa, che è una gara che parte da 0 a 0. Allora, l'Europa è costantemente in bilico tra speranza e disperazione, tra orizzonte e burrone e questa speranza dell'Europa porta a dire che noi dobbiamo lavorare costantemente per cosa? Per le questioni che sono state oggetto del bellissimo dibattito di oggi pomeriggio. Ci vuole un ruolo più forte, avete detto praticamente tutti, per l'Europa, anche perché se no facciamo il vaso d'argilla, il coccio d'argilla tra Stati Uniti e Cina. Il prossimo secolo, il secolo in corso più correttamente, è un secolo che vedrà questa leadership, ora noi non possiamo, questa sfida per la leadership tra Pechino e Washington, noi non possiamo risalire alla storia del nostro pianeta troppo in là, anche se sarebbe interessante cercare di cogliere alcune similitudini degli anni venti con gli anni venti del passato. Attenzione, gli anni venti partono con una pandemia, allora era la spagnola, stavolta è stato il covid, gli anni venti hanno un momento di grande crisi della democrazia anche in Europa e che cos'è lo scontro che stiamo vivendo se non uno scontro tra chi ha un'idea della democrazia come quella occidentale e chi come russi e cinesi il 4 febbraio del 2022 scrivono che per loro la democrazia è un sistema che non necessita del voto. Parlano nel documento approvato e fermato da Putin e Xi di diritti umani da difendere ma non parlano di diritti umani universali parlano di diritti umani natura e nazionali. Guardate che su questo punto c'è un tema che porterebbe a una riflessione enorme. Va bene, non mi allargo troppo anche perché gli anni venti sono stati un grave problema per tutto il ventesimo secolo ma quello che voglio dirvi è che il ventunesimo secolo sarà chiaramente il secolo dello scontro tra Stati Uniti e Cina o della competizione o del confronto vedremo come definirlo. In questo scontro l'Europa ha un problema che innanzitutto è un problema demografico prima che democratico. L'Europa era fino a qualche anno fa il 7% della popolazione mondiale il 25% del PIL e più o meno la metà di quello che noi chiamiamo welfare state e siamo sempre stati molto onorati e orgogliosi di questo. Noi siamo sempre stati un luogo di civiltà un luogo in cui la rivoluzione gentile la civilizzazione gentile ha trovato casa. Abbiamo un primo problema che è quello demografico. Abbiamo un secondo problema che è qual è il nostro ruolo tra Stati Uniti e Cina. Abbiamo un terzo problema che abbiamo o no il coraggio di andare verso una difesa davvero comune che vuol dire l'esercito europeo e questa roba qua in che rapporto sta con la Nato? Voi sapete che io ho una stima infinita di Emmanuel Macron. Emmanuel Macron è stato l'unico che tre anni fa ha avuto il coraggio di dire una cosa che è pazzesca se ci pensate detta dal presidente francese ma è vera è vera è vera aveva ragione lui. la Nato vive una condizione di morte cerebrale. Qual è il ruolo della Nato? E quindi qual è il rapporto tra esercito europeo e alleanza atlantica? E ancora non ne parliamo ne avete discusso oggi qual è la sfida del fisco? Com'è possibile che noi mettiamo insieme adesso finalmente anche parte del debito ma non mettiamo insieme le regole fiscali? Per cui dentro di noi ci sono dentro la nostra famiglia ci sono dei simili paradisi fiscali almeno rispetto ad altri e ancora la considerazione finale che faceva Ernesto imbeccato da Nicola sull'intelligence ma lasciatemi dire e come si fa a non parlare di immigrazione? Fino a due mesi fa la storia dell'immigrazione europea era che c'erano dei paesi considerati sfigati perché al sud dell'Europa che si dovevano assorbire l'arrivo dei migranti e i paesi soprattutto ad est i paesi di Visegrad che ci spiegavano facendoci la morale di quanto noi eravamo impreparati e incapaci di difendere i confini europei ora se noi avessimo difeso i confini europei in un certo modo nel loro modo nella loro filosofia nel loro nazionalismo esasperato quei paesi in Europa non sarebbero mai entrati abbiamo perso nei primi anni del 2000 il referendum in Francia per la paura dell'idraulico polacco vi ricordate il referendum sulla costituzione europea e quindi di conseguenza noi abbiamo fatto un grande sforzo per allargare l'Europa e ha avuto ragione secondo me Gennaro Migliore nel corso del nostro incontro a sottolineare come se ci si pone un tema dell'allargamento non possiamo sottacere la grande questione dell'allargamento nei paesi balcani a cominciare dall'Albania noi abbiamo visto come un popolo cambia e diventa parte della scommessa europea anche non facendone parte perché l'Albania questo ha fatto ma il punto fondamentale sull'immigrazione è che fino a due mesi fa c'erano l'Italia la Grecia parzialmente la Spagna a momenti che erano i paesi in prima linea sull'immigrazione e i paesi di Vigigrad che ci facevano la morale adesso abbiamo capito che è tutto in discussione di nuovo e che quell'accordo di Dublino assurdo assurdo un accordo di Dublino assurdo lo dico perché era sotto presidenza italiana il 2003 quando tale accordo fu firmato raccontiamole le cose qui non se lo ricorda nessuno come stanno le robe questo è un momento storico nel quale la memoria la gente cancella tutto come fosse un messaggio a scomparsa rapida di quelli che vanno su Whatsapp invece c'è una storia anche l'Italia sbagliò nel 2003 per difendere una legge assurda quale la Bossi Fini nel voler insistere sull'accordo di Dublino che di fatto lasciava la centralità della gestione dell'immigrazione ai paesi in cui i migranti arrivavano questo tipo di filosofia ci ha condannato a una permanente discussione lo sa Sandro che mi accompagnava in quelle riunioni tra il 2014 e il 2016 quando avevamo lo sbarco dei migranti ed eravamo in prima linea come italiani e allora noi non rinunciamo a quei valori di umanità perché lo voglio dire con molta chiarezza in questo weekend sono morte 91 persone nel Mediterraneo 91 persone di loro non si parla ma sono morte esattamente come si muore nei villaggi ucraini in un caso si muore per i carri armati e per i missili in altri casi si muore per l'ignavia europea che non apre le porte a queste persone e che non mette l'Africa al centro delle priorità guardate che questo è un tema che prima o poi dovremo tornare ad affrontare anche perché piaccia o non piaccia tra 30 anni la Nigeria da sola sarà più grande dell'intera Unione Europea e i trend demografici fanno meno notizia dei trend settimanali nei sondaggi ma segnano il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti e chi fa politica pensa ai figli e ai nipoti non pensa solo ai like bene tutto questo grande tema sull'immigrazione sta portando alla divisione dei paesi vicegrad che considero un bene perché è evidente che la posizione ungherese non è più quella polacca ed è evidente che questa divisione segnerà a mio giudizio il percorso futuro dell'Europa ecco tutte queste discussioni che sono così importanti e che ne portano delle altre ad esempio come si difende la democrazia domenica i francesi vanno a votare o votano macron o votano macron speriamo diciamo ma nel momento in cui votano il presidente eletto è il capo è l'uomo che risponde che ha una responsabilità nel senso latino del termine che deve rispondere perché c'è una democrazia che funziona e c'è un netto collegamento tra l'eletto e l'elettore amici cari se noi non mettiamo mano alle regole anche in Italia il valore democratico della corrispondenza tra espressione del voto e scelta della persona verrà meno è l'argomento di cui discuteremo mercoledì non come argomento a piacere mercoledì prossimo ma come conseguenza e conclusione di questo ragionamento sull'Europa e io penso lo dico rilanciando una proposta che abbiamo fatto anni fa che noi dovremo arrivare all'elezione diretta del presidente della commissione europea già le liste trasnazionali saranno un passo in avanti ma se tu vuoi difendere la democrazia e ritieni che questo sia un tuo valore identitario contro alcuni paesi che non considerano l'espressione del voto elemento costitutivo della democrazia lo ripeto nel documento di Pechino c'è scritto questo ci sono alcuni paesi che a torto a ragione dicono per noi la democrazia non funziona come da voi e guardate che alcune esperienze nel mondo della primavera araba sembrano dar ragione a chi pensa questo perché nel momento in cui si è aperto il valore il principio democratico in alcuni paesi sono arrivati i fratelli musulmani ed estremisti quindi è complesso il quadro della politica internazionale non puoi fare un tweet e pensare di cavartela devi studiare ed è questo il senso del nostro convegno il nostro convegno è che noi siamo quelli che credono nell'Europa perché accettano la complessità dell'Europa e provano a fare dell'Europa la casa dei valori e della politica questo che cosa vuol dire vuol dire che non troverete mai da noi uno slogan per il quale magari prendiamo tanti like ma perdiamo la faccia noi siamo diversi noi siamo orgogliosamente diversi sappiamo che le emozioni hanno un valore un peso un'importanza sappiamo che non siamo robot ma sappiamo anche che noi abbiamo il compito di provare a trovare soluzioni io credo che i prossimi mesi dimostreranno come queste soluzioni non siano soltanto le soluzioni diplomatiche ma un nuovo sguardo culturale identitario sull'Europa finisco su questo dopo il Bataclan io fui molto criticato perché la prima cosa che dissi era un euro in sicurezza un euro in cultura e la gente mi disse ma che pensi di bloccare i terroristi islamici offrendogli un biglietto agli uffizi è evidente che questa lettura era una lettura macchiettistica ma quello che noi dicemmo e dobbiamo dire e diremo ancora è che l'Europa avrà un futuro se riscopre i valori identitari culturali e li mette a servizio di uno sguardo del futuro del mondo noi andremo sempre di più nel metaverso avremo sempre di più una dimensione tecnologica esasperata vivremo nel mondo dell'internet delle cose dei big data abbiamo bisogno di investire come Europa in una nostra idea e identità culturale e in questo senso penso che dovremo ragionare e riflettere nei prossimi mesi dunque il vostro lavoro del quale vi ringrazio oggi ci ha aiutato perché ci ha fatto fare un passo in più ci ha fatto cioè spiegare che al netto delle valutazioni che si possono avere su dei radici storiche e culturali del conflitto in Ucraina io sono uno di quelli che ad esempio crede sia stato tradito il mandato il messaggio l'intuizione molto giusta che aveva Henry Kissinger quando nel marzo del 2014 spiegava come l'Ucraina dovesse essere un ponte per la straordinaria unicità e complessità di quel popolo si è persa l'occasione noi eravamo stati quelli che avevano proposto di fronte a Hollande Merkel e Cameron di fare avevamo proposto a Putin e Poroshenko di fare del Donbass un'area come il Trentino Alto Adige vale a dire un'area soprattutto come l'Alto Adige nel quale con un accordo internazionale tra Russia e Ucraina si poteva si fosse potuto questa era l'idea di fondo che noi avanzavamo immaginare una specifica autonomia gli accordi di Minsk hanno preso soltanto una parte di questo ragionamento e poi sono stati ahimè disattesi nelle modalità che ricordiamo ma è inutile stare adesso a discutere di tutto questo la realtà è che poi Putin ha preso ed è entrato nei confini territoriali ucraini e questo non soltanto viola il diritto internazionale ma viola l'idea stessa di diplomazia perché nel momento in cui passi alle vie di fatto e all'utilizzo della violenza immediatamente fai cadere meno fai venire meno qualsiasi giustificazione storica che pure potresti astrattamente reclamare in questo senso noi abbiamo oggi offerto una occasione di discussione facendo dell'Europa e della solidarietà europea il trampolino per uno sguardo diverso sul futuro del mondo io non sono uno di quelli che pensa che andrà tutto bene o viceversa che ha il pessimismo del si stava meglio quando si stava peggio andrà come la faremo andare andrà come la politica sarà capace di farla andare e in questo senso il mio appello conclusivo soprattutto a quelle ragazze e ragazze che ci stanno seguendo da Radio Leopolda è approfondite tenete insieme i grandi elementi del passato con le sfide del futuro ecco perché noi chiamiamo i ragazzi più giovani la generazione ventotene perché noi vogliamo riprendere quella grande intuizione ideale di persone che stavano al confino che erano sotto il nazifascismo e che immaginavano gli Stati Uniti d'Europa quella intuizione va ripresa e va declinata oggi chiedendo che l'Europa faccia un passo in avanti e non un passo indietro per farlo però bisogna mettere da parte la istantocrazia e bisogna tornare alla visione di lungo periodo bisogna mettere da parte il populismo e tornare alla politica allora tutto il resto dalle politiche energetiche di cui abbiamo parlato la settimana scorsa a Civitavecchia in un bellissimo convegno alle questioni della democrazia decidente di cui parleremo la prossima volta acquisiscono un significato nuovo e in questo senso il lavoro che vuol fare Italia Viva è prezioso a mio giudizio anche per chi non ci vota l'idea è quella di offrire una casa un luogo un terreno una corà in cui potersi incrociare condividere le idee e capire che la politica è una cosa terribilmente più seria di chi semplicemente con qualche slogan immagina di risolvere problemi molto complessi io sono convinto che per l'Europa ci sia uno spazio straordinario ma questo spazio va costruito e chiedo a tutti e a tutti di farlo nel frattempo ringrazio chi ha permesso questo convegno oggi ringrazio chi ci ha lavorato a lungo a cominciare da Nicola e Sandro dico ai ragazzi più giovani la famiglia di Renew Europe vi dà una grande opportunità che è quella di andare a Ventotene a riflettere sul futuro della vostra vita prima ancora che del nostro pianeta e per tutti questi motivi teniamoci in contatto perché come ci diciamo spesso questi sono tempi complicatissimi ma sono tempi in cui c'è un bisogno disperato di politica si tengano i populisti quelli a cui piacciono le frasi alla di Stefano mettiamoci noi a lavorare con consapevolezza umiltà ma anche con grande determinazione grazie a tutti e a tutti e ci vediamo mercoledì al convegno sul presidenzialismo e ci vediamo Grazie.